questo è il profusale, può essere anche a casa si si Sì 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 Grazie a tutti. 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 anch'io non so come è stessa io ho il cavallo basso e cosa c'è? ma allora secondo me potreste anche pensarci ma qua sono le ruote queste sono le ruote leggerissime sono molto delicate ma sono molto leggera domani ci vado no questa è la berlinia siamo tutti? no ma questa è l'inverno ma questa è l'inverno ma questa è l'inverno ma questa è una bella bici se tu la fai come l'ho fatta io ci metti il manubrio mountain bike questa è una bici spettacolare tipo questo tipo questo è proprio da grosso però diventa comodo metti i copertoncini un po' più larghi per fare strada è meglio di queste qua ma ancora va a cominciare aspetta non asperchiamo gli altri certo chi manca? Antonello? Antonello rosso? qua c'è Gianni quindi si buona mangiare qua c'è Gianni quindi si buona mangiare con il piede più stretto ma c'è Gianni c'è Gianni non capire niente va sopra qua siamo ancora a messi salato e c'è una rumena che non c'è la colazione ancora è tu qua rinforzata frappone oggi voleva venire me la festa ah si eh? ma che sono ripartiti ma non ci sono a dormire vado 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 Io li preparo a dire che posso fare tutto io, ma manco niente. Non ci mangio, c'è qualcosa a fare. C'è un po' certo, scusa. Ma tu che può fare? Non ti dico, scusa, la mia vita ho sempre fatto questo, accanto, ma questo l'ho mangiato tu. Ma io l'ho capito in secco che non vuoi. C'è il rionno che ho cargato un gemetto, un palazzo. Oh, il corsaro è geniale. Che io furbo, no, io venite a bantare. E ce la stai accorsando. Lucio, corsarlo per lavorare sui scogli, che là ci sono nel pietro a muratura. E' geniale, scavavo, scavo pali, tutti i paletti, per mettere le pareti, ma è preparatista, prendi nel capitero. Il suo mestiere è quel, nel disco al mondo, capire, ogni atto. Spettiamo alla faccia. Allora, metti il mio loco, loco, non la faccio stare. No, ora tu lo monti, tu hai detto che lo monti. Mi hai fatto comprare la cassetta a te, non so, manco, cos'era. La cassetta a te, con le spalle. La cassetta a te, con le spalle. La cassetta a te, con le spalle. Tu me la hai detto. La cassetta a te, con le spalle. Mi hai detto, no, da portata. Vabbè, ma è sempre cinese. Non so, non tu le cinesse. No, no, no. Però, se no, non finisci. Però, se no, non finisci. Luca! Ma tu non manchi il coperato. Ma vi dico, no, no. I pecor, magari. E io ho sentato col giornale. Ma non più ci fai dire. E i pecor, magari. I pecor, magari. I pecor, magari. I pecor, magari. A me lo SOFRI. Siamo a quella 7 chilometri ora per salire ce ne possono mancare la biscina. Una decina. Si abbiamo affrontato che l'improvviso era a tavola. L'improvviso di aver sconciato l'altro. Noi si chiamano che è donna. Ma no, 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 è donna. E quando ci riongiamo poi ti spiega. Di nuovo, di nuovo è donna. E' un po' di nuovo. Ma che amai, che donna, ti chiamavo a tutti? Chiamavo a tutti. Lucio, io ero dedicato i miei 10 minuti per mangiare un impegno pubblico per Paolo, è uscito dal ricordo di passare. E' che ha dedicato 10 minuti per la sua vita. E' che dici che pensi che Paolo mette in stato 10 minuti? Ma guarda, e te l'ha fatto pagare, fa gioia, 7 euro. Tu mandavo, io c'è da me che non pago niente, ma non lo potevo in stato. E' un'altra cosa, non è possibile, hanno avuto qualche contrattempo, non è possibile. Ma prima, quando ci va a fare, va a Turchero. Si, si, Turchero, non è possibile. Oggi 10 minuti. 10 minuti. Ma vado a dire, Turchero, 10 minuti, vivere gli minuti. E' che mi viene da 15 anni, non mi ha presentato una femmina, non ha chiamato i primi. Ma come? Ma scusa, con Sarra non va dalla storia che stiamo prendendo il padre? In realtà, i dritti, non lo provo a fare in casa. In realtà, noi ci ho pulito con il pacco di aereo. Chiamatevi messi con questo Sarra. Ma si è pagato meglio, perché era una piccolosa che invece farei 40 minuti. No, ma a questo punto, allora, conveniente che noi che andavano di là e ci vedavamo la sopra. Attenzione, oh! Allora, c'è spesso e si apriamo la sopra. Ah, è tutto il fatto. Allora, c'è spesso e si apriamo la sopra. Ah, è tutto il fatto. Non c'è il fatto. Non c'è il fatto che... Non c'è il fatto che... Sì, non c'è il fatto che mi devo fare. Allora, con noi la sopra cosa è l'antanza della Sadea. la manica magari si ma siccome è proprio larga lunga non ne vale la pena ma dove le tessere? no e come si costa, Quantaloncini poi invece meritano e come accidere? ma come accidere? no, Quantaloncini mi aspettai l'ottima forse li andavano bene e infelizia no, non credo che ci siano allora, si vede, un capire e un capire e aspettiamo, andiamo avanti allora andiamo avanti dai, andiamo avanti, certo però non vogliamo accendere sono io, se le faccio le donne sono io, se le faccio le donne non vogliamo accendere ma che non vogliamo accendere io mi dico io, se le vedi a Cagliari e che tu e la te ahah! sto a dare spiegazioni no, non sto a dare spiegazioni Grazie. Grazie.